Odoo Italia, a fianco delle imprese italiane. Allora, riprendiamo questa conferenza con un talk di Zerint, azienda Emanuele Figliolia. Io ho sempre paura a pronunciare correttamente. Ok, soluzioni per l'industria 4.0 IoT. Esatto. Perfetto, quindi facciamo un applauso a Emanuele. Buon lavoro. Grazie. Allora, innanzitutto grazie per ritrovare. Allora, io mi chiamo Emanuele Figliolia e mi occupo di product management. Sono il product manager delle soluzioni industrial IoT in Zerint. Facciamo una prova. Esatto. Due parole soltanto su Zerint. Zerint è un provider di soluzioni industriale IoT. Non entrerei troppo nel merito se non relativamente al fatto che siamo specialisti nell'accompagnare le aziende in ambito manifatturiero a realizzare quella che oggi va sotto il nome, anche se abbraccia ambiti molto molto più estesi, industria 4.0. La problematica è praticamente nota, soprattutto in paesi come l'Italia, ma in Europa in genere ce ne sono diversi che hanno una lunga tradizione in ambito manifatturiero, per cui ci sono aziende variegate di dimensioni diverse che fanno bene il proprio lavoro. Il problema è che quando cominciano ad affrontare il mercato globale si scontrano con paesi nuovi che hanno fatto investimenti di recente ed è chiaro che la concezione con cui macchine industriali moderne sono sviluppate e quindi messe in esercizio è completamente diversa. Per cui è importante per reggere la competizione globale, oltre ad altro, cominciare a smartificare gli shop floor. Shop floor è appunto l'area di produzione, a partire dalle macchine industriali. La problematica è cominciare a raccogliere dati per fare analisi oggettive, così analisi in generale. In realtà i verticali e gli ambiti applicativi fanno il tipo di analisi. Quindi il fattore comune è cominciare a raccogliere e rendere parlanti le macchine, raccogliere dati e renderle parlanti. Noi siamo esattamente in questo ambito. Qualche numero, però sorvolerei, abbiamo una lunga esperienza, startup nata nel 2015, oggi siamo l'unica in Italia ad aver raccolto con due round di investimenti il più grosso investimento fatto da United Venture, e l'ultimo con una cordata all'interno della quale ci sta anche a cassa depositi e prestiti. La problematica è chiara. Due parole soltanto su che mercato ci troviamo a dover affrontare, perché è molto complicato anche per partner come voi, come Odoo, affrontare il mercato industriale quando si parla di smartificazione. Qua sono alcuni numeri, in realtà non entrano nel merito. La sintesi è che chiunque, questi sono dati ufficiali da diverse sorgenti, c'è Accenture, c'è Microsoft, c'è la McKinsey, che nell'analizzare la problematica, perché non si riesce a velocizzare la smartificazione e quindi consentire all'Italia industriale di entrare in maniera rapida nella modernità in termini di smartificazione e digitalizzazione. Perché la problematica è che i shop floor, gli ambiti industriali, le fabbriche, proprio per parlarci in attimino in maniera concreta, hanno degli ambienti molto variegati, molto eterogenei. A fronte di linee produttive moderne ci sono linee produttive magari di 30 anni, perfettamente efficienti, producono alla grande. Il problema è che non riescono ad essere gestiti al pari delle linee moderne. Per cui quando un'azienda si dà un'organizzazione e comincia a dettare le regole interne di gestione, è chiaro che la linea che sta più indietro si tira un po' quelle logiche e se le porta dietro di mancato efficientamento o oggettivizzazione nel prendere decisioni, perché io non posso avere un reparto che fa manutenzione diversificato in funzione della linea. Se c'è il master all'interno, il referente da anni che gestisce una macchina e la fa andare bene solo lui, non è che a lui gli posso cambiare la testa e dico adesso c'è la macchina moderna, leggi i dati. Bisogna in qualche modo accompagnarli. Accompagnarli significa essere di volta in volta accorti affinché la soluzione che si va a calare per digitalizzare quegli ambienti sia effettivamente efficace rispetto a quali sono gli obiettivi. Per cui partner che sviluppano software gestionali, e-mess o aziende provider anche grosse, incontrano grosse difficoltà quando poi affrontano questi ambienti delle PMI molto molto variegate, perché si scontrano e dicono, ok ma io sono troppo grosso, come faccio di volta in volta per lead, diciamo per business, magari grosso numero ma di piccolo poi effettivamente revenue, andare a customizzare di volta in volta la soluzione. Lì è esattamente dove ci poniamo noi. Noi vogliamo creare come Zerint quella zona di comfort per tutti gli sviluppatori software per consentirgli di entrare nell'ambito industriale e non pensare alle problematiche dello shop floor. Dice, te hai un grosso algoritmo di machine learning, hai ERP, hai gestionali, hai MESS, puoi offrire soluzioni, e parliamo sempre in ambito industriale, la tua problema è raccogliere i dati, lavorare su dati oggettivi che coprono tutto lo shop floor. Ok, posso farlo io. Ho le capacità e l'esperienza per consentirti di tirare fuori i dati da macchinari di qualsiasi tipo. Poi vediamo questo qualsiasi è una parola chiave. Perché si raccolgono i dati? Velocemente, non ci perderei tanto tempo. Diciamo che i needs, come si chiamano in termini di marketing, quindi non esiste prodotto se non soddisfa uno specifico bisogno. In ambito industriale questi needs sono di tre tipi. Esiste semplicemente la piccola azienda, magari, che ha processi produttivi un po' più vicini all'artigianato che all'ambito industriale, che vuole però affacciarsi al futuro, cominciare a competere. A questo tipo di azienda si affacciano anche tutti gli incentivi governativi, il credito di imposta, il 4.0. Quindi si vuole in qualche modo spingere queste aziende a fare investimenti che li portino verso questo ambito di digitalizzazione. Questi semplicemente, tra virgolette, hanno bisogno di avere visibilità sui dati. Diverso è il discorso, quindi visibilità cosa significa? Macchina per macchina, linea produttiva per linea produttiva, presse, ventilatori, celle frigorifere per macchine ausiliari, vengono dette di volta in volta, capire cosa fanno, come funzionano, quindi gli stati di funzionamento, se sono in allarme, quanto consumano? Quanto consumano sta cominciando a diventare, sapete meglio di me, una problematica interessante. Interessante per chi propone soluzioni che risolvono il problema del consentire di attuare azioni di efficientamento energetico. Ma non sono gli unici, ci sono tutta un'altra serie di aziende che in realtà già l'hanno fatto il passo, magari perché hanno linee produttive moderne, già hanno i dati, ma non sanno che farsene. Cioè dici, sì, ok, io vedo la macchina quando lavora, vedo la macchina quando non lavora, capisco la manutenzione, ma io voglio migliorarmi nell'efficienza dei processi produttivi. L'efficienza dei processi produttivi significa produrre di più, meglio, e per il maggior tempo possibile nell'ambito di quelli disponibili. Se faccio tre turni per cinque giorni alla settimana, vorrei idealmente una macchina che mi lavora 24 ore su 24, che produce il 100% dei pezzi, se fa chiaramente pezzi, ottimi, di qualità, e che non si ferma mai. Questo è l'ideale. È chiaro che per raggiungere questo ideale vanno attuate delle azioni. Se non si hanno i dati e non si sanno analizzare questi dati, è difficile anche capire cosa fare. Ecco, noi abbiamo soluzioni anche in questo ambito, fino ad arrivare poi ai grossi gruppi che magari non fanno tanti prodotti di basso valore, i tappi delle bottiglie, per darcene un'idea, ma fanno in realtà prodotti ad alto contenuto tecnologico, quindi di alto valore, il loro problema è che io ho pochi clienti, mi hanno selezionato, la qualità me la validano loro, io non ho tutta questa pressione sul migliorare effettivamente la qualità. Sto incastrato in una supply chain, il mio problema è soddisfare il cliente sui tempi di consegna, sulla gestione degli ordini, io devo lì agire. Quindi si parla di visibilità, è un altro tipo di needs. Abbiamo soluzioni pure per quelle. Quando io prima ho accennato e ho detto qualsiasi macchina in ambito industriale, quel qualsiasi è la parola chiave che differenzia Zerint dal resto dei provider, non siamo gli unici sul mercato. Però cosa differenzia noi dagli altri? Esattamente questo qualsiasi. Grazie a delle tecnologie che sono state brevettate, noi riusciamo in maniera molto molto rapida a interfacciare un dispositivo qualsiasi, quindi in ambito industriale, una macchina in linea di produttiva, quella che io chiamo macchine produttive, o anche sistemi che non sono direttamente coinvolti in ambito produttivo, ma che sono fondamentali per garantire il funzionamento della fabbrica. Abbiamo accennato prima, sistemi di ventilazione, c'è le frigorifere, le pompe, sono tutti dispositivi che vengono classificati come sistemi ausiliari, dove nessuno ci mette le mani, perché poi non hanno un grosso valore di per sé, quindi perdere tempo a tirare fuori gli stadi di funzionamento, il condition monitoring di una pompa, se la pompa è a servizio di una pipeline per la parte di reflusso dei gas, comincia ad essere, vabbè, la trascuriamo. Se si rompe quella pompa, la linea produttiva l'ha fermata uguale. Quindi quando dico qualsiasi, è che grazie alla tecnologia che noi mettiamo in campo, riusciamo davvero a dare visibilità, nel senso che abbiamo prima accennato, quindi stati, allarmi, consumi, o tirare fuori parametri di processo, velocità, temperature, da qualsiasi tipo di macchinario, sia industriale che ausiliario. E poi ci sono i quadri elettrici. Il quadro elettrico è quasi nascosto nelle fabbriche, e lì la luce l'accendo, la linea parte, ma in realtà si dimenticano che esiste un quadro elettrico di sezione. Fino adesso nessuno ci badava, perché la tecnologia è abbastanza... Se brucia un quadro elettrico, se non si fanno proprio grossi guai, è difficile. Però attenzione alla parte energetica. I quadri elettrici servono reparti. In inglese, gli americani lo chiamano zone level monitoring. Va bene monitorare la macchina, ma bisogna capire anche che succede nei reparti, per capire se un reparto deve essere riorganizzato, nell'ottica dei consumi. Non è che posso andare semplicemente a mettere dei sensori in tutto il reparto per fare la somma, basta agganciarsi a un quadro elettrico. Il quadro elettrico è sezionato, io analizzo in maniera molto molto semplice, parliamo di un'ora di tempo per smartificare una macchina, industriale qualunque essa sia, parliamo di questo, senza fermare la macchina in maniera del tutto trasparente. Quando io dico che abbiamo la tecnologia, significa fare sta roba qua, cioè andare dal cliente, mediamente spendere un'ora con un elettricista comune e cominciare a tirare fuori dati, anche di consumo nel caso dei quadri elettrici o delle macchine, in un'ora. Questo è il grosso vantaggio che si ha, perché siamo bravi con i dati, in realtà i dati di per sé, tutti quanti hanno tanti dati, quanti di voi hanno parlato con clienti, ma io ce li ho i dati e poi non si sa ne cosa fare di quei dati. In realtà il film va continuato. Noi Zerint abbiamo anche la possibilità di mettere in piedi la continuazione del film, ma non è nei nostri interessi, non stare qui, nel senso che il mio ruolo in questo contesto vuole essere proprio quello di offrire questo tipo di tecnologia a community come la vostra, non a caso è stata scelta Odoo, tra l'altro siamo clienti, noi abbiamo apprezzato dall'interno cosa significa avere a che fare con i prodotti Odoo, perché realmente riteniamo poter essere la chiave che consente a partner che abbiano intenzione di entrare a fare business anche in ambito industriale, o chi già riopera, di consentirgli di superare quelle barriere, quegli ostacoli, in termini di costo, in termini di effort, in termini di tempo, e quindi caricheremmo noi, su di noi, tale tipo di responsabilità per consentire loro di andare avanti e fare quello che poi in realtà è il vostro lavoro, cioè andare effettivamente a proporre soluzioni in ambito di gestione ordine, efficientamento energetico, efficientamento delle linee produttive, il classico OI, la qualità, per non parlare poi di tutto il resto, che conosciamo Odoo, ma io mi sto concentrando sul modulo produzione, se l'avete capito, no? Quindi cosa abbiamo fatto? Cosa vi propongo oggi? Diciamo che questo è un po' uno schema architetturale, noi agiamo sulle macchine, macchine abbiamo detto possono essere ausiliare, macchine di produzione, quadri elettrici, andiamo ad installare su ogni macchina, in linea di principio, un dispositivo hardware, ma in realtà il cuore di quel dispositivo è l'agent, il software che sta a bordo, il brevetto è sul software che gira a bordo di quell'hardware, l'hardware è sviluppato da noi, quindi è un gateway basato su un microcontrollore, che gestisce tutta la cyber security, perché in tanti contesti non c'è un hardware disponibile su cui far girare il nostro agent, chiaramente siamo assolutamente flessibili di far girare l'agent su qualunque altra piattaforma, che sia anche un sistema Linux, un pc industriale, fatto è io creo con già a livello di bordo macchina, quello che si chiama digital twin, parole abusate, diciamo che la macchina la rappresento nel mondo Zerint come un sottoinsieme di dati che la caratterizzano, sono dati di processi, dati di funzionamento, allarmi, stati, consumi, io ho per ogni macchina la sua carta d'identità, e la condizione di funzionamento real time, per ogni macchina, a questo punto quei dati sono ribaltati nel mio ambiente, che è il mio cloud, anche noi copriamo tutta la parte architetturale, anche il cloud, c'è tutta la parte di cyber security, di asset management, la gestione di questi asset da remoto, c'è tutta la parte del canale bidirezionale per poter inviare comandi, aggiornamenti firm. Noi ci fermiamo qui, in questo contesto, perché abbiamo, e cito adesso, ma lo vedrete scritto dopo, grazie a una collaborazione con Bluemap, con Bluemap abbiamo in qualche modo messo in piedi, e guidato la parte di sviluppo, un connettore, abbiamo messo in piedi un connettore, che non è un prodotto, ho sentito prima, e sono contento di averlo sentito, dice, qui in realtà nella community si può anche lavorare di framework, non è che bisogna prendere un prodotto e usarlo così com'è, ognuno di voi può differenziarsi e cominciare a fare business utilizzando ciò che nella community è stato fatto e poi andandoci a costruire sopra qualcos'altro. Questa è esattamente la logica con cui abbiamo sviluppato questo connettore, che non fa altro che, connettore software, quindi mettere in comunicazione, in maniera, voglio dire, smart, intelligente, questo mondo di digitalizzazione di macchine, che abbiamo gestito noi, diciamo, con tutto quello che già esiste nel modulo produzione di O2. Il modulo produzione, lo vedremo dopo, ma breve, esistono i centri di lavoro, altrimenti non riesco io a costruirci sopra analisi, no? E tracciamento di operazioni, c'è bisogno in qualche modo di avere ordini calati su un centro di lavoro e capire quel centro di lavoro che sta facendo. Benissimo, glielo dico io. Cioè, questo connettore, così come è sviluppato nella sua versione attuale, che è un MVP, perché è praticamente realizzato, consente, attraverso una semplice configurazione iniziale, di mettere in comunicazione questi due mondi. Io conosco la macchina esattamente, so quello che fa in ogni momento, in maniera oggettiva, ribalto sul tuo centro di lavoro questi valori, compreso i consumi, se sta lavorando, annetto quanto tempo ha lavorato su un totale, se si è guastata, per dire, no? Oggi l'abbiamo semplicemente ribaltato in maniera automatica e quindi messo in piedi di una soluzione, Uros è la persona che ci ha consentito di parlare con un cliente specifico, abbiamo in qualche modo validato questa soluzione, questo beta test, in cui si vede esattamente che configurando il connettore, la soluzione Odoo eredita in automatico tutta una serie di informazioni su cui costruisce tutto il suo mondo Odoo. Il problema è che se non ci fosse stato Zerint, fosse stata Zerint alla base, questi dati bisogna andare a prenderli. Ora, nel caso in cui la macchina industriale è moderna, c'è un'interfaccia di comunicazione, se è una bella macchina, l'interfaccia di comunicazione è documentata, e se parlo di un troppo o una colonna? Un troppo o una colonna? Se lì un signore, quanto tempo lavora quel troppo? La punta dopo quanto tempo si consuma? Quanto consuma? E voglio dire, se abbiamo fabbriche che hanno 50 di queste macchine e chiedono a Odoo, dice, ma non posso capire io quanto tempo netto ho lavorato, se è partito l'ordine, non è partito l'ordine, è un ostacolo enorme per un'azienda, un provider di soluzioni software, tirare fuori queste informazioni. Alla meglio riesce a dire, ti faccio un training all'operatore di linea, gli do un tablet, sarà lui a spippolare, a dirti, lo sto usando la macchina, l'ho fermata, l'ho messa in pausa, ma i dati sono importanti. Tutto il mondo software e tutti gli algoritmi di machine learning che ci vogliamo inventare hanno bisogno di dati per funzionare. Se quei dati non sono consistenti, sono affidabili, e sappiamo che si affida un'operazione di tracciamento dati ad un operatore di linea, non è l'attività principale che fa quella persona, è secondaria. Quindi, per non andare troppo lungo, giusto due parole su quali sono i vantaggi. Le abbiamo accennati. Cioè, perché bisognerebbe poter utilizzare il connettore di Zerint per fare business in ambito industriale? perché si va molto più veloci nel fare le cose che altrimenti andrebbero comunque fatte. Un modulo produzione ha bisogno di dati dalle macchine. Con un connettore UDU nella versione più semplice, taxi, bis, poi i dati sono già disponibili. La parte di interfacciamento macchine la faremo noi, i nostri tecnici. Cioè, una data si va lì, si piazzano tutti i dispositivi, a un certo punto con un connettore, i dati ci sono. Quindi, una velocizzazione nello smartificare di utilizzare i dati assurda. In più è possibile, altro vantaggio, automatizzare delle informazioni. Tanti volte lo start e lo stop di un processo, la macchina ce l'ha già a bordo, basta analizzare un profilo di corrente per cui, se una pressa fa delle operazioni ripetitive, a me basta semplicemente installare un gateway e una pinza amperometrica. Leggo i profili di corrente, sui picchi la pressa ha fatto un'operazione. Io do in automatico lo starto il tempo ciclo, senza che nemmeno l'operatore deve andare a inserire. quindi un valore aggiunto di una soluzione Odu. O addirittura integrare le informazioni che già abbiamo in Odu con altre sensibili, i consumi. Io posso dare il valore di consumo per ogni singola fase di lavoro di quella macchina. Che cosa ci facciamo? Non lo so, però magari qualcuno nel colloquio con il cliente ad Odu ci può piazzare un software sviluppato in community che fa l'analisi energetica. È un valore aggiunto, è un elemento di differenziazione, tutto poggia sui dati. Se ho i dati, sui dati, poi c'è la falantasia. L'importante è che di base il framework è Odu e quello della community. Il meccanismo è molto semplice. C'è un connettore, diciamo che lo troveremo qui all'interno della schermata. Si apre, c'è quel connettore, Zerint. Cliccando su quel connettore si troveranno i digital twin, le versioni digitali dei macchinari. A questo punto però i dati, senza che sono legati ancora a nessun centro di lavoro, sono i digital twin, quindi sono come dire la mappatura digitale di tutti i macchinari che noi andiamo a coprire. Attraverso la configurazione, voglio dire, dello scambio di informazioni, con il canale bidirezionale, i dati sono già ribaltati in Odu, senza sapere nulla. Quindi già tutta una serie di informazioni che io tiro, tutte, fossero le temperature, i consumi, lo start, senza saper l'applicazione finale, sono già ribaltati in Odu. Dice sì, però sono lì in una tabella generica. In realtà con una semplice associazione, macchina per macchina, ci clicco, entro all'interno e ci associo il centro di lavoro che è in Odu, che si è già configurato, ho fatto il batching. Cioè, tutti quei dati che sto generando e sto ribaltando nel mondo Odu, sono in Odu già a disposizione di uno specifico centro di lavoro. Sono tutti questi dati, avrò la timeline, chiaramente il modulo produzione, questo MVP, non li utilizza tutti. Quindi, diciamo che, a fronte di un ordine, perché il canale è bidirezionale, quindi anche io, Zerint, capisco qual è l'ordine che lavoro su quella macchina, associa a quell'ordine tutta una serie di informazioni, oggi parliamo di start e stop, il tempo medio, il tempo netto di lavoro rispetto ai fermi e ai consumi, se li ritrova pari pari aggiunte all'interno della schermata Odu. Per cui, ad un certo punto, il partner Odu, che si trova a dover affrontare una mappatura di un processo industriale per dare visibilità sull'efficienza, non so quale potrebbe essere l'applicativa, parte già da qui, parte che a fronte di un'emissione di ordine di produzione per ogni centro di lavoro su cui quell'ordine cade, c'ho già tutta una serie di informazioni che altrimenti dovrei andarmi a prendere manualmente e la parte più difficile, più rognosa è proprio questa di chi affronta il sistema, l'ambito industriale. Quindi abbiamo, in questo caso, immaginiamo, per fare un detest prima che andassimo presso il cliente, abbiamo smartificato una macchinetta del caffè che abbiamo nel nostro laboratorio. Chiaramente il tempo di lavoro della macchiatria del caffè è 30 secondi per ogni caffè che fa. Effettivamente c'era in un centro di lavoro che prendeva questi dati. Non so se sono fuori tempo massimo, mi fermerei perché... Ah, ok, perfetto. Quindi diciamo che la... volevo appunto citare, ringraziando, chiaramente se li cito soprattutto per questo, non è soltanto teorico, questo è un discorso che ha visto il coinvolgimento di BluMap sulla parte di sviluppo, c'è stato un affatest interno in cui abbiamo lavorato e validato i dati. Grazie a Uros siamo entrati in un cliente, ora magari Fabio non ricordo bene il nome, KTM forse? STM? Perfetto, chiedo scusa. Ah, ok. Perfetto, eccola qua. Questo è ciò che abbiamo fatto presso il cliente, STM, chiedo scusa, sei qui. Uros è il partner che ha gestito il cliente, abbiamo provato l'utilizzo di questo connettore, quindi macchine sono delle macchine, delle presse, macchine a stampaggio plastico, le abbiamo mappate con la nostra tecnologia, il connettore ha fatto il lavoro di associazione e instaurazione di questo canale bidirezionale e chiaramente all'inizio come vedete i valori principali di le informazioni per testare il tutto che sono state prelevate si parla di valori energetici quindi i consumi perché sono macchine che effettivamente hanno un impatto sui piani di efficientamento energetico importante, quindi i consumi per fase di lavoro attenzione quanto consuma e quanto consuma se la metto in lavorazione quanto consuma se la metto in stand by se non ci lavora la devo spegnere non la devo tenere accesa è questo fare l'analisi di consumo su tutte le macchine tempo ciclo che è fondamentale per fare efficientamento di processi produttivi e chiaramente bisogna poi associare queste informazioni a quelli che sono gli ordini di lavoro che non gestisco io è tutto il mondo due quindi ordini emissioni pianificazione su quel centro di lavoro il matching di queste informazioni ha un impatto devastante su l'efficacia percepita il valore percepito della soluzione in questo caso do e zerient il connettore è disponibile a breve nel senso che stiamo ultimando la parte di pubblicazione sullo store c'è una procedura che stanno gestendo ma roba da giorni e ripeto l'obiettivo non è io qui sono un product manager non sono un venditore a me non interessa venire qua con la valigetta e vendere è l'opportunità che si crea in una logica di win-win perché non è un prodotto che nasce chiuso per poter essere installato ma è come dire un framework una base su cui io realmente credo che ci sia poi la possibilità di concentrarsi e andare a gestire quella customizzazione che è fondamentale e necessaria sia per soddisfare meglio il cliente che chiede sempre cose specifiche perché i processi produttivi anche in fabbriche uguali non sono uguali però chiaramente se lo stacola prendere i dati comincia ad essere difficoltoso se i dati già ci sono uno riesce in qualche modo a impacchettarli e rispondere meglio a quelle esigenze e credo che per vocazione O2 nasce con questa specificità cioè incontrare quei clienti specifici le piccole PMI accompagnarle nel fare efficientamento è migliore efficacia dei processi produttivi e questo può essere un toolettino semplice di utilizzo ma molto molto efficace a fronte di questa mission mi fermerei qui grazie prego microfono grazie Emanuele sicuramente diciamo lo spirito giusto per essere agli O2 days quello di trovare una soluzione che può essere come dire condivisa e poi integrata in altri in altri contesti io una domanda ce l'avrei di fatto stiamo parlando di una sorta di orchestratore giusto faccio così sì allora in realtà ci possono essere tanti nomi orchestratore se nell'accezione di riuscire a raccogliere i dati quindi fare gathering e mettila a disposizione in maniera classificata quindi già pronti all'uso sì c'è nel senso che all'interno del mondo Do per magia non si tratta di magia chiaramente chiamiamola per magia avremo una serie di informazioni a gratis su cui è possibile costruire tante belle cose o servire moduli già predisposi come modulo produzione o automatizzare delle operazioni che altrimenti sono manuali o addirittura costruirci sopra applicativi specifici per quel cliente quindi credo che sia un orchestratore a cui è stata associata un po' di intelligenza per mettere ad Odoo quindi è una cosa sviluppata per Odoo dei dati pronti all'uso quindi un orchestratore intelligente mirato ad Odoo mirato ad Odoo questo è di Odoo abbiamo fatto un lavoro per Odoo cioè questo non è che posso prendere sto codice e lo vado a rigirare questo è per la community diciamo per Odoo ma in realtà è per la community perché io non sto mettendo un prodotto su uno store con un prezzo di vendita e mi vado a valutare quanto ne vendo è un framework come dire come la pasta daido la pasta modellante di per sé ha già una forma che magari potete cominciare a giocarci spostando un po' di qua un po' di là può diventare uno strumento secondo me fondamentale per andarci a costruire tante belle cose che nella community possono essere sviluppate quindi come dire è un volano grazie ci sono domande non vedo nulla sul gobo tu sei sempre il solito sei fuori contesto ogni edizione ho inviato delle domande sono le tue che non arrivano non si vedono nella chat mi scrivo non si vedono Ciro vai fuori provaci dai vai vai la situazione sostanzialmente di un'istanza in cloud e un capannone più capannoni di slogati lungo il territorio per cui in questo caso il limite fisico come lo no allora la par innanzitutto noi gestiamo tutte e due le tecnologie sia MQQT l'API o addirittura il webbook per fare il tag in questo caso l'API il collegamento è fatto cloud cloud quindi i limiti fisici sono assolutamente bypassati nel senso che anche aziende con uffici dislocati in diverse parti del territorio mondiale in realtà nel nostro cloud trovano come dire un contorno logico su cui ci si può andare assolutamente a lavorare prego prego proviamo io però sul copo non vedo nulla facciamo un'ultima domanda anche perché dobbiamo cercare di recuperare un po' di tempo sono a disposizione anche dopo poi raccontiamo le domande e proviamo a metterci tutti in contatto tramite la manglise se è una domanda magari vi interessa anche per tutti allora sì allora i dati sono in prima istanza inviati nel nostro cloud per una questione di gestione del dato mi sentite nel senso che noi abbiamo parlato di una piattaforma e la piattaforma prevede dall'age al cloud con questo canale che ti va a gestire dalla cyber security all'asset management quindi i dati sono sul nostro cloud e poi c'è questo interscambio la seconda parte è per quanto tempo chiaramente il cloud anche il nostro anche se noi possiamo andare a ribaltare la piattaforma in qualsiasi atto cloud o addirittura in logica on-prem questo magari non l'ho detto ci sono dei clienti che hanno del remore può essere impacchettato in logica docker anche presso il cliente diciamo noi di default rispetto agli slag che offriamo sono due anni di dati live ma in realtà noi memorizziamo anche su memoria di massa quindi mettiamo a disposizione tutto lo storico che il cliente potrebbe voler ricevere a meno che nella GDPR non ci notifica cancella a quel punto perdiamo assolutamente qualsiasi tipo di gestione del dato non siamo i proprietari del dato quindi due anni live ma lo storico non si perde non viene cancellato non possiamo cancellarlo noi purtroppo dobbiamo andare avanti con il programma perché abbiamo sforrato un po' però tutte le domande provate a ripubblicarle sul canale di Telegram e poi facciamo diciamo alla fine della conferenza un riepilogo di tutto anche con i relatori grazie Emanuele per grazie a voi l'intervento interessante Odu Italia a fianco delle imprese italiane a fianco delle imprese grazie a tutti